Ho sempre voluto entrare al grande fratello, ma questa volta, dopo aver letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato Luca Speracchi è extronista di Uomini e Donne ed oggi personaggio attivo su OnlyFans, nonché porno attore in erba, prende le distanze dalle scelte prese dalla dirigenza Mediaset ed in particolare Dallana, Pier Silvio Berlusconi, di eliminare il trash dal grande fratello Decisioni che hanno portato via via a escludere personaggi più o meno seguiti sui social e sulle varie piattaforme web Speracchi parla di discriminazione, non è giusto impedire a chi lavora su OV di partecipare a certi programmi, è ridicolo Mandano in onda monologhi contro il razzismo, l'omofobia e per il femminismo, continua l'extronista, escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social Punto punto punto, si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di cambiamenti